Si riparte dopo il 2-2 di sabato contro il Sasso Marconi, ancora una trasferta contro una squadra di medio-bassa classifica che attraverso un periodo delicato, ci sono tutti gli ingredienti per il trappolone, per la partita piena di insidie? Le insidie ci sono sempre se non vai con l'atteggiamento giusto, se non vai con il pensiero di giocare la partita determinata, concentrata e tutte quelle componenti, quei valori che servono per affrontare le squadre che chiaramente hanno dei valori minori, però che la butteranno sull'agonismo e su quelle cose che ho elencato prima. 9 gol subiti nelle ultime 6 partite, è cambiato qualcosa negli equilibri della tua squadra o si tratta di coincidenza? E' chiaro che in questo momento qua stiamo subendo troppi gol e questo non va bene, eravamo stati bravi con la Reggiana a essere bravi, attenti, concentrati, determinati e dovremo avere quello stesso atteggiamento. Nelle altre gare è chiaro che è mancato qualcosa, vuoi per disattenzione, vuoi anche per bravura degli avversari, perché comunque c'è anche la bravura degli avversari, però se vado ad analizzare i gol che abbiamo subito sono stati tutti su errori nostri, su mancanze nostre di essere più attenti, più cinici, più bravi a lavorare anche sulle palle che vagano in area libere. Quanto riguarda interpreti e modulo, hai in mente qualche novità per la partita di domani? Sicuramente sto riflettendo sul fatto di dare il recupero a qualcuno che chiaramente sta spingendo e sta spingendo da tanto, quindi le valutazioni sono anche su questo fronte qui. Con Dierna squalificato, gozzo infortunato, ci sarà il debutto da titolare di Stefano Berni e ti dà garanzia a questo ragazzo che non abbiamo mai visto dal primo minuto? Stefano è un ragazzo a posto, a modo, un bravissimo ragazzo e un bravo giocatore, che ha anche qualità importanti, quindi ci sarà sostituto, oltretutto giocherà con il suo piede dalla parte sinistra, visto che in genere ho due destri che giocano a difensori centrali, quindi potremmo arricchire soprattutto in costruzione un valore. Per l'aderenza mancherà Alex Pinardi, a cui leghi uno dei ricordi più intensi, credo, della tua carriera in panchina. Beh sì, Alex evoca ricordi straordinari, soprattutto per i tifosi del Modena, per chi ama il Modena. Alex qui ha lasciato un'impronta importante e l'ha lasciata anche a me, perché chiaramente sono stato onorato di averlo allenato. Grazie.